I cambiamenti climatici e il consumo del suolo rischiano di modificare intere aree naturali e di danneggiare il settore agricolo. Anche in Italia, dove l'agricoltura è da sempre sinonimo di eccellenza, oggi l'ambiente ha un alleato in più. In occasione del settimo censimento generale dell'agricoltura, l'Istat sposa uno dei progetti di forestazione di Tridom, la piattaforma web che crea e sostiene progetti agroforestali a beneficio di cooperative locali. Per ogni 10.000 questionari compilati sarà piantato un nuovo albero, con l'obiettivo di dare vita alla foresta social dell'Istat in Basilicata, nel parco delle chiese rupestri del Materano, un intervento di piantumazione che arricchirà un paesaggio caratterizzato da una sorprendente varietà naturalistica. Qui, piante tipiche dell'habitat locale come il fragno, ospitano sui rami alcuni degli uccelli più rari del continente. Compilando il questionario ci aiuterai a far crescere il progetto. Le tue risposte sono l'infa per l'ambiente.